Buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento che quest'oggi si sposterà dall'Istria a Venezia in centro storico perché andiamo ad incontrare un importante editore, lui si chiama Davide Livieri della casa editrice El Squero, una piccola casa editrice ma molto importante, significativa, vi ricordo che è stato pubblicato anche l'ultimo libro di Italo Sbrogio, da noi intervistato proprio pochi giorni prima della sua scomparsa lo ricordo un uomo che ha dato il sangue sulle strade per la difesa dei diritti dei lavoratori bene, noi abbiamo voluto incontrare il suo editore Davide Livieri, dunque il nostro servizio da Venezia noi ci vediamo al termine Dunque qui a Venezia in centro storico incontriamo Davide Livieri, editorialista del Squero, ho detto giusto? Sì, casettrice Squero, sì Ecco, una casettrice piccolina qui a Venezia Sì, noi siamo a Venezia, ormai il prossimo anno faremo la festa dei dieci anni perché è dieci anni che siamo attivi più che mai negli ultimi anni ci siamo avuto modo di dedicarci di più alla casa editrice per farla crescere e diciamo che abbiamo avuto delle buone soddisfazioni anche recentemente Com'è nata l'idea di creare questa casa editrice? Nasce dall'esigenza di voler comunicare dei valori in cui si crede e cioè crede soprattutto che la cultura, quello che può fare una piccola casettrice sia importante oggi perché sia un valore da recuperare e i libri, io dico sempre, fanno stare le persone meglio di quando non li hanno letti e quindi poter migliorare le persone, dare un contributo cercando della qualità infatti io dico sempre, siamo una piccola casettrice con grandi libri perché devo dire sono molto orgogliosi degli autori che ci propongono di pubblicare i loro libri perché ci capita spesso, per fortuna, di avere delle buone proposte, anzi delle ottime proposte e quindi quello che pubblichiamo è qualcosa in cui crediamo che possa far star bene le persone Ecco, tra altre cose, io ricordo un libro di una persona che abbiamo intervistato potremmo dire anche recentemente, poi purtroppo ci ha lasciati tutti è di Italo Sborgio Beh, Italo Sborgio, sì, il suo libro è stato importante perché è un libro che comunque, come appunto dicevo, parecchi nostri libri cercano di essere dei libri che restano e cioè che siano delle memorie, che siano delle testimonianze quella di Italo, senz'altro, è una importante testimonianza che ci fa capire effettivamente come la società non solo era ma come potrebbe essere migliore se si seguissero alcune regole poche regole, nulla di così perentorio però che possano veramente far crescere le persone in modo più equilibrato e quindi anche che lo sviluppo generale un po' di tutti sia lo sviluppo anche di ognuno se si parte dal punto di vista che qualcosa e questo era uno dei punti del libro di Italo Sborgio qualcosa che possa migliorare un po' tutti migliora anche noi stessi se pensiamo invece di pensare solo a migliorare noi stessi difficile che possiamo migliorare perché solo quello che ci circonda migliora allora tutto migliora se pensiamo che da soli potercela fare penso che la società attuale ha dimostrato che questo non funziona Ecco, so che a te Italo Sborgio ti ha colpito abbastanza ecco, cosa ti ha dato questa conoscenza personalmente? Mi ha dato molto perché è una persona una persona che aveva un vissuto dove ogni sua esperienza ha cercato di dare un'impronta appunto per un bene collettivo e pensare al bene collettivo se le cose funzionano un po' per tutti come dicevo funzionano anche per noi questo era uno dei suoi messaggi forti e che secondo me andrebbero recuperati in una società troppo individualista Ecco, infatti c'è questo appiattimento dagli anni 70 ad oggi una società che si è come appiattita è calato forse il grado culturale delle persone cioè a livello culturale forse questo è dovuto anche a i mass media a questi caramati di media come dire network con una programmazione abbastanza bassa di livello culturale perché questo lo possiamo vedere tutti noi non è una novità quello che sto dicendo ecco, cosa ne pensi di questa situazione che si è venuta a creare in Italia? Sì, in Italia purtroppo e non solo ma in effetti il problema è proprio questo che alla fine la possibilità di conoscere tutto perché adesso anche con i media sembra di poter conoscere tutto di poter arrivare ovunque di avere questa illusione di poter avere un appagamento nel fatto di potersi relazionare con tutto quello che ci circonda ma la qualità della relazione la qualità della conoscenza questo non viene mai messo in evidenza relazionarsi con tutto il mondo è una cosa meravigliosa non è questione dei mezzi c'era Rossellini che vedeva nella televisione il futuro della possibilità di una società migliore ma perché effettivamente il mezzo il mezzo è un ottimo mezzo è come viene usato è questo il problema ma non è che bisogna demonizzare il mezzo bisogna demonizzare come è stato usato e come viene usato perché creare terrore e tensione ci costringe poi ad appellarci a qualcuno e non prenderci mai responsabilità e questo è comodo invece se ognuno di noi si prende un po' di responsabilità credo che possa essere un buon messaggio perché appunto quello che viene un po' individuato in questa società è proprio questo il fatto che tu puoi dire tutto puoi essere dappertutto ma la qualità dove sta? non sta in questo nella quantità è la confusione tra quantità e qualità quindi per far fronte a una situazione del genere benvengono tutti i canali alternativi ecco quindi anche le iniziative culturali anche il lavoro che stai facendo tu con la casa editrice a Squero sì infatti il nostro piccolo cerchiamo di fare questo abbiamo avuto delle soddisfazioni anche recenti perché siamo stati al Salone di Francoforte dove appunto ci sono 7.000 espositori 350.000 persone in due giorni una cosa enorme però quello che abbiamo cercato lì come cerchiamo di fare è costruire relazioni di qualità è quello che un po' tutto questo mondo che ci appartiene dei vari social o altro vanno benissimo ma cerchiamo sempre la qualità non solo la quantità avere un milione di amici o un milione e mezzo di visualizzazione è una cosa meravigliosa ma chi ci vede che cosa pensa di quello che noi diamo quello che noi offriamo che qualità di relazione c'è non è tanto la quantità e questo è un po' come ripeto il problema ecco per concludere ricordiamo alcuni lavori importanti che ha fatto El Squero quali argomenti avete trattato? beh abbiamo trattato appunto anche la poesia per esempio che è un genere letterario che sembra temerario quasi ma quando abbiamo avuto delle poetesse come Anita Menegozzo come Licia Mandic e come Daniel Castro insomma abbiamo avuto degli autori non voglio nominarli tutti ma insomma sono tanti per fortuna che hanno dato nei loro contenuti nella loro qualità una ricerca di comunicazione appunto diversa e dare la lettura anche nelle scuole come abbiamo fatto ci ha dato delle sorprese e delle situazioni che hanno creato veramente della meraviglia a noi e a dei bambini pensate che siamo andati in una scuola elementare e un bambino di terza elementare ha alzato una mano questo l'abbiamo ripreso perché quella volta c'è stata una ripresa che ha fatto una maestra quindi e si vede che non c'è nessun taglio nessuna cosa nessuna proprio una cosa spontanea e questo bambino terza elementare alza la mano e dice ma scusate ma la poesia la leggono anche gli uomini di affari aveva capito che era un messaggio importante questo che riceveva questa poesia e si preoccupava se gli uomini di affari fossero consapevoli che esisteva questo tipo di letteratura questo tipo di messaggio detto bambino terza elementare ci ha fatto molto piacere molto pensare non c'è non c'è che dire prospettive in conclusione prospettive in futuro del squero Davide beh adesso facciamo una cosa molto simpatica ci sono state certe circostanze fortunate e positiva diciamo la verità che ce lo permettero fa qualche giorno andremo a presentare la casa editrice a Tokyo alla società Dante Ligieri di Tokyo tra l'altro anche il contatto ce l'ha dato una persona Luisa Shimemi che ricordo qui che ci ha messo in contatto col presidente Dante Ligieri di Tokyo che lei è presidente Dante Ligieri di onoraria di Padova tra l'altro è una persona di grande sensibilità anche molto curiosa perché è una persona comunque che è discendente di Dante Ligieri quindi insomma è una persona da una storia lunga è una persona di grande cultura e poi altri elementi ci permettono di andare a Tokyo per parlare un po' della nostra piccola casa editrice quindi questo è il progetto immediato poi faremo come ogni estate ormai la terza estate un'iniziativa simpatica cioè faremo il cinema la perdo dove per entrare non si acquista un biglietto ma si acquista un libro bene con queste interessantissime altre sì bellissime iniziative chiudiamo qui la riflessione con te Davide ti aspettiamo ancora magari ti seguiamo in altre nelle prossime iniziative dunque buon lavoro non mi resta che augurarti farti questo augurio in questa Venezia così ventosa questa mattina sì grazie speriamo che appunto il vento ci porti lontano grazie ancora riprendiamo da studio dunque ringrazio l'editore Davide Livieri della casa editrice El Squero ringrazio anche a voi che ci avete seguito prossimo appuntamento con il nostro settimanale previsto per la settimana successiva sempre agli stessi orari gentili signore e signori buonasera grazie a tutti